Il taser ancora protagonista per mettere fine ad un'aggressione velocemente senza gravi conseguenze per le persone coinvolte. È accaduto ieri sera verso le 22 e 30. La pistola elettrica è stata impiegata dagli agenti delle volanti per immobilizzare un cittadino nigeriano che avanzava aggressivo e con fare minaccioso in veendo contro la pattuglia. Poco prima a lungo viale Mazzini aveva steso con un pugno al volto un cittadino cubano che lo aveva affrontato dopo che il nigeriano aveva mostrato i genitali alla moglie ed era scappato. Il marito una volta rialzato è riuscito a dare l'allarme e a fare intervenire una volante che ha immediatamente individuato e bloccato l'aggressore. Il soggetto che non dava segni di voler desistere dagli atti osceni compiuti in luogo pubblico ha infine costretto gli agenti all'impiego del taser. L'uomo alla fine è stato scordato in questura e arrestato. Grazie 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 Grazie